Soffrendo a causa dei calcoli alla cistifellea e i dolori le impediscono di alimentarsi bene. Dobbiamo affrontare il problema in modo radicale. Ora procediamo a rimuovere la cistifellea e spero che questo la rimetta sul binario giusto in modo da continuare a dimagrire. È molto debole e questo mi preoccupa. Spero e prego che abbia la forza per superare questo momento. La cistifellea era ridotta molto male. Ora l'abbiamo tolta. Viste le condizioni, l'intervento è riuscito molto bene. Se dorme, lascerà dormire. Ciao, amore. Mi fa male. Sì, beh, un po' deve farti male. Ma ti vedo bene. Ti riprenderai. L'operazione è andata bene. Ha fatto tanta strada e spero che dopo questo intervento potrà ripartire. Non si direbbe che sono passate tre settimane da quando sei entrata. Mi sembra che sei qui da un secolo. Ero ricoverata quando è nato mio nipote. Mi sono persa le sue prime due settimane. Mi dispiace molto. Sento di aver toccato il fondo. Ora sono pronta a tornare a casa e vedere mio nipote. Sono sicura che lì starò meglio e supererò questo problema. Sei pronta a tornare e vedere il nostro ometto? Beh, sì. Sì.